Ieri è stata completata la demolizione del ponte danneggiato oltre quattro anni fa da un camion che si incastrò sotto la struttura presente lungo la strada Tre Torre che collega Lufita con l'Arianese. Nel giro di due giorni il cavalcavia, le cui condizioni hanno causato il blocco del traffico in concomitanza con la rampa di svincolo per Flumeri con relativa viabilità alternativa, è stato demolito. Si prosegue però in maniera celere verso il ripristino del ponte e la conseguente messa in sicurezza dell'intera area. L'opera dovrebbe concludersi nel giro di due mesi circa, almeno stando al cronoprogramma reso noto da ANAS e Prefettura di Avellino, tempi dunque ristretti che fanno capire l'importanza dell'arteria di collegamento. Grazie. Grazie.